Torniamo anche questa settimana di Mattina Live con la nostra rubrica dedicata al mondo delle municipalità. Oggi siamo in compagnia del presidente dell'ottava municipalità, Nicola Nardella, che presiede i quartieri di Piscilona, Marianella, Chiaiano e Scampia. Ben trovato. Buongiorno. Iniziamo proprio con un argomento a lei molto caro, il verde nella sua municipalità e gli spazi dedicati ai cittadini. Una grande conquista questa per l'amministrazione tutta è la riapertura sicuramente del parco pubblico dedicato a Ciro Esposito. Come sarà valorizzato e qual è lo stato, qual è stato appunto l'iter che vi ha portato poi finalmente a questa grande riapertura? Allora, noi abbiamo attinto a dei fondi di città metropolitana, ben 700 mila euro, che erano stati previsti per la riqualificazione di alcuni parchi cittadini. Il parco Ciro Esposito è prezioso, è prezioso perché si trova nelle vicinanze dell'università che abbiamo appena aperto, perché è vicino alla municipalità, perché è vicino all'otto M, il lotto insomma delle vele per intenderci, che grazie al progetto Restart saranno abbattute e quindi tutta l'area sarà riqualificata. E quindi è un grande polmone verde che raccoglie anche alcune varietà vegetali particolarmente pregiate, ma l'idea dell'amministrazione è quella là di trasformarlo in una vera e propria piazza, in un luogo di incontro, una piazza verde ovviamente, non diciamo di cemento, ma in un luogo di incontro per i cittadini dell'ottava municipalità. Quanta soddisfazione c'è in lei per questa grande conquista? C'è una soddisfazione enorme perché il mio percorso è particolare, io vengo dal mondo dell'ambientalismo, quindi fare in modo che ripartano dei lavori per la riqualificazione di un parco, dare in affido delle aiuole, avviare i patti di collaborazione che permetteranno la nascita delle community garden è una gran soddisfazione non solo per l'attenzione che stiamo dando al bene pubblico, al bene collettivo, ma perché vedo in una qualche maniera realizzati i miei valori di ecologia e ambientalismo. Particolarmente a cuore. Restando sulle strutture e sui servizi della vostra municipalità, non possiamo non parlare dei lavori legati allo stadio Landieri, erano stati istanziati dei fondi, ma dopo una fase di pausa, anche forzata direi, si è recuperato in qualche modo questo tempo perduto, a che punto stiamo con questi lavori? Siamo a buon punto perché cosa era accaduto? Erano stati istanziati dei fondi del bando Sport e Salute, quindi era stato realizzato il manto, gli spogliatoi erano stati ultimati, però non avevamo la cosiddetta agibilità, c'era la necessità di integrare quei lavori per mettere lo stadio Landieri a norma. Ora abbiamo ancora delle problematicità, resta da risolvere il problema docce, perché purtroppo ancora abbiamo un problema in quel senso, però abbiamo un'agibilità, finalmente le società possono non avere più la difficoltà di avere un pubblico sugli spalti, perché prima c'era un problema connesso proprio agli spalti, e voglio rappresentare che il Landieri è uno snodo importantissimo per l'ottava municipalità, perché lo sport da noi è un qualcosa che, mi piace dire, va oltre lo sport, perché è anche un momento di aggregazione sociale importantissimo e di trasmissione di valori etici, che quindi sono quei valori che consentono di sottrarre vite giovani alla criminalità organizzata. Diciamo un'amministrazione al servizio del territorio, la vostra, e in questo intento si colloca anche il progetto della biblioteca municipale, dell'ottava municipalità, una realtà che sicuramente si impone di essere incarnata totalmente per e nel territorio. Ci racconti un po' i progetti in essere? Allora, il progetto è quello là di trasferire la biblioteca Severino, che è la biblioteca che storicamente è dell'ottava municipalità, ed è presente attualmente nell'814b, che è una struttura difficilissima da raggiungere, insomma servirebbero molti soldi per riaggiustare un ascensore, ma di trasferirlo a Villa Nestore. Villa Nestore è stato storicamente un luogo dedicato alla socialità, prevalentemente la socialità degli anziani. Poi quel centro è chiuso perché non c'erano dirigenti e c'erano dei lavori da fare. Con il bilancio municipale abbiamo stanziato dei fondi per riqualificarlo, siamo riusciti a riqualificarlo e ora trasferiremo la nostra biblioteca a Villa Nestore, riattivando anche dei servizi per gli anziani. Il punto è questo, abbiamo un'idea di biblioteca diffusa, ci piacerebbe che in una qualche maniera lungo tutto il territorio si potessero prenotare online questi libri e poi prelevarli in varie sedi, non ultima quella della municipalità, e quindi lanciare l'idea di una sorta di biblioteca diffusa, in poche parole, quindi sottrarre spazi al degrado attraverso il valore della cultura, dei libri e il rapporto sempre con i comitati e le associazioni. Bene, andiamo nello specifico invece della politica. C'è stata la delibera municipale sui patti di collaborazione. In che cosa cambia la gestione e come agevola voi e i cittadini anche? Guardi, questa è una delibera di cui sono particolarmente orgoglioso, perché noi ad oggi non avevamo uno strumento che consentisse di recuperare i cosiddetti residui urbani, cioè quei beni che o sono abbandonati nella municipalità oppure sono in cura a cittadini che però non hanno un titolo legittimo per poterne avere il possesso. I patti di collaborazione sono dei veri e propri accordi che la municipalità stipula con comitati di cittadini, con associazioni per la gestione di aree verdi oppure di luoghi anche abbandonati. È un principio di sussidiarietà che regola questa vicenda. In buona sostanza noi riteniamo che l'azione amministrativa non debba essere solo incentrata all'interno del perimetro istituzionale ma possa essere condivisa con le associazioni, i cittadini e i patti di collaborazione vanno in questa direzione. Voglio solo precisare che è uno strumento di cui si sono dotati grandi comuni italiani come Bologna, come Milano e poi l'ottava municipalità e a seguire anche la terza municipalità del comune di Napoli. Periodo di investimenti, ma come state lavorando per il bando sul centro di Santa Croce? Ora siamo in attesa di capire chi si aggiudicherà a quel centro. Anche quello era un grande immobile che abbiamo riqualificato sempre con fondi municipali. C'è da dire che è un qualcosa di molto complesso perché le municipalità hanno in dotazione un bilancio di 800 mila euro per intenderci. Era un luogo destinato all'aggregazione giovanile che però giaceva in uno stato di fatto di abbandono perché oramai era divenuto impraticabile. L'abbiamo riqualificato, abbiamo emesso come municipalità un bando perché riteniamo che i soggetti sociali, le associazioni debbano essere i protagonisti della ricomposizione di tessuti sociali talvolta disgregati e quindi siamo in attesa di capire la commissione a chi assegnerà tra le varie proposte che ci sono pervenute insomma quei locali, ma sarà un lavoro che ottimeremo nel giro di una quindicina di giorni. Bene. La periferia quindi al centro della rinascita ma anche di ascolto. Abbiamo purtroppo ripreso un discorso mai interrotto sulla violenza di genere. Come replica con la sua municipalità a questa necessità divenuta quasi sempre emergenza? A me piace dire che l'ottava municipalità è una municipalità donna non solo perché le donne ricoprono importantissimi ruoli istituzionali ma soprattutto perché mutuiamo un concetto di cura di cura verso le fragilità sociali. Esiste una mentalità competitiva che è una mentalità puramente maschilista ed esiste invece una mentalità cooperativa. A noi ci piace avere questo tipo di visione per il territorio. Nei giorni scorsi ci sono state moltissime iniziative che hanno messo al centro il tema della violenza contro le donne. La municipalità ha stipulato un protocollo con Dream Team Donne in Rete che è un'associazione che gestisce i CAB, i centri antiviolenza quindi è un tema su cui proviamo a sviluppare il massimo livello di attenzione possibile coordinandoci non solo con i centri antiviolenza ma facendo rete con le forze dell'ordine con i nostri servizi sociali che sono in prima linea su questa vicenda. Mi piace ritenere che sia un nostro dovere diciamo porre in essere tutto quello che è possibile nel contrasto alla violenza contro le donne. Ecco, quindi in che modo i ragazzi sono coinvolti, sono seguiti, sono supportati per educare al rispetto all'educazione civica? Intanto insomma grazie al protagonismo della nostra rete associativa che è molto presente nelle scuole che fa un tipo di attività diciamo veramente intensa all'interno degli edifici scolastici perché? Perché riteniamo che diciamo quando si tratta di giovani veramente ci sia la possibilità poi di poter cambiare le cose perché tu la mentalità parriarcale maschilista o la vai a scardinare fin dalle giovani generazioni oppure poi più la corri anni diventa molto più complicato quindi c'è una campagna fortissima di sensibilizzazione all'interno delle nostre scuole. Bene, noi la ringraziamo veramente per essere stato in nostra compagnia stamattina e quindi ringraziamo ancora una volta il presidente dell'ottava Municipalità Nicola Nardella e noi ci vediamo tra pochissimo dopo la pubblicità rimanete con noi a Mattina Live. Arrivederci.